cari amici eccoci qua voi sapete venerdì ore 20 minuto più minuto meno minuto più di solito e ci troviamo perché perché finisce la settimana ufficiale dal lunedì al venerdì di solito si lavora chi ha il lavoro e poi sabato domenica di solito serve dedicato al riposo e alla serenità ovviamente di questi tempi non è proprio così per tutti però insomma di ripro di rappe abbiamo mantenuto l'abitudine di farvi trascorrere una cinquantina di minuti il venerdì sera tra le 20 le 20 e 50 parlando di qualcosa che vi possa togliere un po no tutte queste queste miriadi di informazioni principalmente negative che ci saltano addosso nella mattina alla sera io ho sempre detto che faccio al posto del disgraziario perché negli altri gli altri emittenti che fanno i telegiornali noi a quest'ora passiamo casa caffè allora per evitare di stare a tediarvi appunto con cattive notizie cosa abbiamo pensato di fare questa sera abbiamo pensato di portarvi alla conoscenza intanto di un libro molto bello e però un libro che è fatto in collaborazione tra due persone due persone di cui uno è l'autore principale che sarebbe roberto de santa che poi andremo a sentire per quello che riguarda la sua parte con una parte telefonica e poi invece l'amico amico da tanti anni perché abbiamo giorgio fegersoni che è in collaborazione con roberto allora intanto che dire giorgio è dato congratulazioni perché grazie e ti conoscevo come musicista in mille maniere perché insomma io ti ricordo dai tempi in cui eri praticamente bottiglia avevamo tutti i capelli scuri tutto però diciamo la verità li abbiamo ancora cina almeno quello è importante una volta c'era il fascino del cappello bianco adesso non c'è più assolutamente è quello è ma è qui ho visto insomma parleremo anche della della musica un po degli anni settanta eccetera eccetera mi viene in mente lo diciamo subito perché una volta come funzionava quando noi eravamo giovani e parliamo appunto degli anni settanta allora quando eri giovane e c'era sempre 14 anni siccome eri timido allora le ragazzine andava c'era quello da 17 18 che faceva molto più colpo di te quando arrivavi tu ad avere i 18 anni però le ragazzi vabbè quelle piccoline ti interessavano anche poco però quelle della tua età vedono quelle da 20 25 perché la macchina perché questo perché abbiamo sempre sbagliato età noi o no mi viene questo dubbio può darsi può darsi no è vero perché non sembra però perché perché comunque insomma c'era discreto benessere la gente si divertiva c'era se la passava un po tutti quanti si si suonava la chitarra agli angoli della strada suonava e rama molto più anche ingenui per carità non voglio dire però avevamo ecco la consapevolezza che stavamo facendo qualcosa che insomma c'erano questi fermenti un po dappertutto si arrivavano gli anni settanta c'era 68 francese che aveva già cominciato a fare breccia e cominciavamo avere anche noi ragazzini ci guardavamo insomma c'era un po di fermento se si c'era c'era anche come si può dire non stava aumentando anche un po la considerazione degli anziani quelli che noi vedevamo anziani che in realtà adesso sono ben giovani noi siamo oltre quegli anziani esatto se noi erano anziani 40 anni è certo è certo però ci guardavano in un modo come anche un po da un lato preoccupati non so come dire ma dall'altro anche meravigliati che avessimo anche il coraggio di uscire dagli schemi con questi capelli lunghi con questi vestiti sgargianti e rivoluzione eravamo quattro amici al bar che vogliono cambiare il mondo volendo però l'abbiamo cambiato in qualche modo sì sì dopo l'hanno ricambiato a vedere cosa abbiamo combinato per cambiato l'abbiamo noi qualcosa abbiamo cambiato poi se qualcuno ci ha pensato subito per cambiarlo diversamente perché fino a un certo punto eravamo arrivati anche bene però non parliamo di questo ne parleremo sotto il profilo musicale questo è sicuro e però per te diciamo che la musica è diventato una professione si beh sempre sono sempre stato un semi professionista diciamo è diventata una professione nel momento in cui ho cominciato a scrivere di musica perché ho fatto quasi 25 anni sicuri di attività con varie riviste musicali milano roma un po l'estero così insomma ho fatto un po di come come si dice come consulente come come si facevo scrivevo articoli recensioni interviste ho intervistato fortunatamente sono stato fortunato da intervistare alcuni dei miei idoli che è stata una cosa sia nel jazz che nel rock faccio un nome per tutti chitarrista dei police andy sammers per esempio ottimo eh sì quello faccio questi nomi perché li conoscono tutti scusami non ho dato il numero di telefono di riferimento perché se qualcuno vuole dici qualcosa 349 06 34349 sms o whatsapp solamente io intanto saluto tutti quelli che sono collegati in streaming o in digitale terrestre che sia una regione o che sia l'altra non ha importanza fra un po credo che riusciremo a salutare anche gli amici in collegamento facebook attendo però che il telefono mi dica che siamo collegati perché è inutile che si saluto adesso e poi dicono non c'è niente salutato lo faremo al momento opportuno una una cosa da dire subito allora è la musica per te si è sempre stata ma e di metterti in collaborazione per scrivere come mai questa cosa è questa è una storia molto particolare molto bella molto e strana eravamo noi eravamo proprio a scuola insieme eravamo adolescenti e facciamo abbiamo fatto lo superiore insieme a conegliano dopodiché eh sì ne abbiamo combinato ma nel libro ci sono molti di questi episodi ne abbiamo combinato un po' di tutti i colori come tutti i due ragazzi come è giusto che sia e e niente poi ci siamo persi di vista io sapevo delle cose di lui lui spero delle cose di me ma in realtà non ci siamo più rivisti né incontrati né niente qualche anno fa sono andato a farmi un giretto a praga sono andato a praga e con la mia macchinina sono andato ho fatto il mio giro tornando a casa di notte perché ho viaggiato tutta la notte per tornare sono passato per Sicile che è la città dove dove vive Roberto e ho detto ma guarda chissà è proprio qua che abita chissà che fine ha fatto cosa sta facendo eccetera eccetera e poi aveva proseguito sono arrivato sano salvo a casa la mattina apro facebook e trovo che Roberto De Santa mi aveva lasciato un messaggio ma dai ma dico come sono passati 40 anni e mi fa questa notte ti ho sognato invece no eri proprio passato e dico ma sarà non lo so cosa possa essere qualche è una coincidenza pazzesca però io quella notte ero passato per Sicile e la mattina dopo lui mi ha scritto dicendo guarda che quindi abbiamo cominciato a ricominciato a vederci abbiamo fatto un po' di musica insieme poi lui ha pubblicato un po' di libri e ha creato questo personaggio la gente venticinquesimo questo è il secondo è il secondo capitolo diciamo delle sue avventure e poi è venuta a lui questa idea di dire ma se io scrivo tutte queste cose qua bisognerebbe anche spiegare a chi non è di quella generazione cosa è successo quando abbiamo come abbiamo disciuto queste cose qui e allora abbiamo cominciato così è uscita questa idea di creare un appendice al romanzo che ripercorre un po' i personaggi un po' sono quelli più o meno citati anche nel libro e sono stati fondamentali per questo punto sai cosa ti dico però perché a noi ci hai spiegato tu però siccome lui non credo che ci stia già ascoltando spero di no se proviamo a telefonargli a Roberto De Santa e sentiamo cosa dice lui no perché noi facciamo anche pinta di niente come mai conosci Giorgio? e racconta tutta un'altra storia e sono le cose romanzesche queste comunque agente venticinquesimo ecco questo è il titolo poi ci facciamo spiegare però dall'autore il perché l'ha chiamato così questo è poco massimo però la spia che suonava già è una cosa molto interessante no credo di aver sentito rumori come se fosse una telefonata in linea e aspettiamo che arrivi in linea nel trattempo però siccome il libro è un po' ironico ci sono molte cose anche dentro che ti fanno un po' sorridere anche il titolo ha un po' questo atteggiamento qui richiama un po' la spia che mi amava queste cose qui effettivamente però è vero lui era una spia che suonava il personaggio qui e quindi è uscito proprio a puntino diciamo anche il titolo insomma d'altronde in tono col resto le spie devono essere poliedriche le spie devono essere poliedriche uno non è che nasce spia perché sennò lo beccano subito eh devi leggere il libro allora capisci come funziona questo è chiaro e non vi spieghiamo niente al massimo dopo ce ne leggi qualche riga sì leggo un paio di paragrafi anche per giusto per incuriosire eh sì perché sai che non posso svelare no no assolutamente assolutamente la trama le cose e quanto in quanto tempo quanto ci è voluto per per completare l'opera circa un anno però poco più di un anno sì sì quindi pensandoci sì la prima bozza pronto? pronto oh ecco un po' di volume alla cassa please grazie allora intanto buonasera Roberto benvenuto a Casa Caffè questo è il nome del programma io sono Claudio Casorati con me l'amico Giorgio Fersoni non so da quanto vi conoscete voi due ma forse io non dico da prima ma siamo là no forse poco dopo poco dopo perché avevamo le sorelle alle superiori quindi insomma si capisce che anni erano e intanto come va Roberto? tutto bene? va molto bene ho solo il problema che io ho due cani che quando sentono suonare il campanello del telefono cominciano a urlare come fosse la luna piena ma dai allora in genere le prime domande che mi fanno al telefono non non sento mai niente cosa cosa mi dice l'interrocutore beh adesso però adesso non sento niente anche con la sigla del telegiornale ah perfetto bravio io uno però e quindi io sono ormai due o tre anni che la prima notizia del telegiornale non riesco mai a sentirla perché ci sono questi i miei cani che urlano ma adesso va dai sono calmati però posso dire una cosa siccome io quando si parla di telegiornali io richiamo il disgraziario anche se urlano uno si perde solamente di sentire una disgrazia no? che siete mai delle belle notizie sì questa è una buona scusa intanto vi devo fare vi devo fare i complimenti perché siete due splendidi giovanotti eleganti e ben portati grazie troppo buono insomma insomma pensi che quando eravamo giovani dicevamo dai che arrivi al primo cappello bianco sei un figo pazzesco invece no non è vero adesso mi diventavi vecchio adesso ne abbiamo di più però abbiamo lo stesso fascino di prima che per me era poco però di fatto ascolta Roberto io ti faccio subito una domanda perché agente venticinquesimo così ti è venuto sto titolo o non lo so dunque perché mi piace il titolo l'agente venticinquesimo è semplice da spiegare dunque nel servizio segreto della ex Germania comunista della DDR sia gli uffici della Stasi che gli agenti avevano dei numeri romani quindi non si chiamavano per dire l'agente 007 no si chiamava l'agente settimo ed era scritto in cifre romane bello bello ecco grazie perché era una curiosità mi è venuta e ho detto allora bisogna pure che gliela chiedo tu però hai scritto anche qualcos'altro è il tuo primo è un no dunque guarda questo ultimo libro qui che abbiamo fatto insieme a Giorgio è la continuazione di un altro agente venticinquesimo che è uscito sempre per Gasperni l'editore Gasperi circa un anno e mezzo fa poi ho fatto altri altri libri un libro sulla guerra partigiana qua delle nostre peda montana della foresta del Cansiglio e ho fatto sempre quest'anno un libro più che altro storico sulla famiglia Morosini Nemo insomma quindi insomma quindi ti piace la storia però un po' anche il noir un po' anche il noir o meglio anzi la spy story esatto bene bene mi fa piacere mi fa piacere perché poi il sottotitolo cioè la spia che suonava a me piace moltissimo perché come puoi immaginare anch'io o come Giorgio o come tutti quando erano gli anni 70 una chitarra a casa ce l'avevi lui le suonava benissimo io facevo finta però insomma le dita le mettevo lo stesso e qualche rumore ne usciva e quindi soprattutto a Padova era considerata la Liverpool italiana quindi eravamo tutti i suonatori quindi la spia che suonava è matematicamente un titolo giusto per me ecco per il titolo dobbiamo ringraziare il Fai Soni perché è stata una sua idea quella di mettere proprio la spia che suonava bene bene va bene ecco io mi sono tolto le mie piccole domandine semplici dopodiché però adesso tu hai pensato che nel seno hai già fatto uno e questo è il secondo porterai avanti anche il terzo ed eventualmente stai già immaginando che con la somma di queste avventure ne possa uscire un film? ma guarda alcuni amici mi hanno detto che sono avventure molto cinematografiche in effetti però sai noi viviamo un po' la periferia dell'impero nel senso che dovremmo stare vicino all'industria cinematografica che almeno qui da noi in Italia è Roma quindi mi mancano un po' i contatti con il mondo del cinema e del spettacolo ma non si sa mai non si sa mai allora sai perché te lo dico perché anni fa l'amico Carlo Callegari è venuto qui e ha presentato quello che era un libro che poteva solamente andare a leggere in digitale che era la banda che era che Dio ti aiuti bambola questo era il titolo quando era solamente in digitale poi è diventato la banda dei tre e adesso è al cinema ok qui lo ha presentato prima volta che in assoluto che ha presentato quel libro che era solamente in digitale l'ha presentato qui da noi e gli ho detto dico madre è bello potresti farne diventare un giorno un film ma sì non si sa mai attenzione fra breve al cinema ecco quindi ti posso dire che insomma a lui è andata bene io ti auguro la stessa cosa perché no speriamo che ci porti fortuna sia meglio che a Giorgo infatti voglio riavere tra l'altro Carlo qui perché adesso ci deve spiegare come c'è arrivato al cinema scopresti ecco e quindi se io ovviamente lo leggerò poi ti dirò ma se come immagino c'è già una descrizione che possa andare bene per una parte cinematografica sappi che è il 50% di vantaggio perché se devi troppo vestirlo serve troppa coreografia e queste cose qua fanno fatica fanno fatica a vestire un romanzo invece se è già ben descrittivo lo fanno più facilmente tanto per dirla grazie va bene allora ascolta io intanto ti ringrazio e se hai già cominciato a mettere giù due righe sul prossimo agente 25esimo non lo so però appena lo termini mi fai sapere tramite Giorgio e ne riparliamo anche se lui non sarà coinvolto ma presentiamo anche la prossima puntata perché no va bene vi ringrazio tantissimo un saluto veramente di cuore al mio amico solidale ciao Giorgio grazie 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 ciao grazie ciao ovviamente hai capito che hai evitato di fare le domande che se no che non potesse dire una cosa diversa dalla tua su come vi siete ritrovati vale la sua sicuramente avrebbe detto la stessa cosa però però andava bene così e allora abbiamo parlato di musica però siccome tu la musica la scrivi la suoni la canti eccetera eccetera ci fai sentire una cosa rapida che poi invece riprendiamo il discorso non solo su questo su questo romanzo ma anche su questa spy story ma parliamo anche della rubber band eccetera 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 dove tu fai parte uno della rubber band quindi cosa ci fai sentire io pensavo di fare un brano che è un brano che ha portato al successo Elvis Presley ma in realtà aveva già avuto molto successo nella versione degli Isley Brothers ed è un brano francese di Gilbert Becault in realtà dai ed è del 57 50 anni 50 quindi in tema anche con tutte le vicende del muro di Berlino esattamente non c'entra niente ma diciamo intanto grazie a Beila grazie a Mirella che c'è anche il buonasera ci sono i saluti un po' la volta poi saluto a tutti però intanto andiamo avanti sentiamo oggi la versione di si e si chiama la canzone Let It Be Me si chiama Let It Be Me benissimo andiamo let it be me don't take this heaven from one if you must cling to someone now and forever let it be me let it be me each time each time we meet love I find complete love without just we blow what would love be so never leave me lonely Oh, leave me lonely, tell me you'll love me only, and that you'll always let it be me, and that you'll always let it be me. Eh, me la ricordavo, sai? Eh, molto bella. Io ho visto che nella tua appendice parli di parecchi artisti, io vedo John Lennon e gli altri, poi vedo Jimi Hendrix, Frank Zappa, tra l'altro, e poi arrivano loro. Chi sono questi? Eh, perché? Sono curiosissimo. Allora, loro sono i Genesis. Wow! Sì. E anche lì racconto un po' la storia di come sono arrivati, sono, praticamente loro erano un gruppo di cui si parlava molto, ma si conosceva molto poco in realtà. Non c'era internet, naturalmente, non c'era, ne parlava giusto giusto una rivista che si chiamava I Tempi Ciao 2001, che si occupava di rock, di problematiche giovanili, insomma era seguitissima. E c'erano questi Genesis che, appunto, un bel giorno fanno un tour in Italia, il primo tour in Italia. Allora, io ero naturalmente sconvolto da questa cosa, ma come, ma che bello, ma, eh? E sono venuti a suonare vicino a Conegliano, in un dancing. Di solito, appunto, nei dancing c'era tutt'altra musica, tutt'altro stile, tutt'altro. Allora, insomma, è andata a finire che sono andato, tra l'altro con Roberto, siamo andati a sentire questo gruppo nuovo, che venivano dall'Inghilterra, così. L'opi dettagli li trovate nel libro. Sta di fatto che c'erano 50 persone. Cioè, uno dice, i Genesis sono conosciuti a livello mondiale, uno dei gruppi più famosi, eccetera, eccetera, eccetera. E i loro esordi avevano un pubblico di assoluti aficionados, diciamo, che li seguivano così, più per, come si può dire, per amore di scoperta che per vera conoscenza. Quello che posso dirti è che quando noi fortunati li abbiamo sentiti, abbiamo speso 1.500 lire di biglietto. Sì, ho ancora... Mi tagliadino, bisogna. Sì. E ci siamo ritrovati davanti a questi qui che ci hanno steso, ci hanno proprio demolito, cioè tutto quello che noi avevamo fatto, sentito prima, per due motivi. Il primo perché era proprio musica nuova, erano molto preparati anche studi classici, eccetera, eccetera. E poi la strumentazione. Era una strumentazione che non si era mai sentita prima, questo tipo di suono così. Era tutto nuovo, tutto bello, tutto grande, tutto... E quindi ho avuto la fortuna veramente di assistere al primo tour... 50 persone. 50, sì, una cinquantina di persone. E sono stato più fortunato perché i Colosseum, Taverna di Piesso... C'ero anch'io quella sera. Saranno stati almeno 250-300, anche di più. Era pieno. Secondo me, perché tra sopra e sotto, io dall'alto guardavo la bella batteria doppia di Joe Teisman, se non vado errato col nome, perché è una bella batteria, la guardavo dall'alto, mamma mia, come fa a suonarla tutta. E con l'Ossium, ecco un altro gruppo di quelli che ha fatto la storia degli anni 70, insomma. Era una metà strada fra rock, jazz, blues... Lì, fra l'altro, sono i brati King of Trolls, sempre la Taverna di Piesso come prima uscita in assoluto, dopo l'uscita dei quelli e queste cose qui, voglio dire. Sempre in Taverna, e anche lì c'era parecchia genere, però erano interessanti. E anche lì, nuovo modo di cantare, di suonare, però il genere è incredibile, voglio dire. E' proprio questo che ho cercato di mettere nel libro, che era tutto nuovo. Quindi dovete immaginare una situazione in cui sentivi delle cose che nessuno aveva sentito prima. Per stile, ma anche proprio per i suoni stessi, insomma. Perché quando sono usciti anche tutti, Emerson, Eichen, Palmer, eccetera, eccetera, tutti questi gruppi che usavano i sintetizzatori, cosa che adesso anche i nostri telefonini sono pieni di musichette sintetizzate, no? Questi erano suoni che non si erano ancora sentiti, se non, va bene, in laboratori, ricerca fisica, laboratori di elettronica, di fisica artistica. Brian Nugger era super cinema, eh? Sì, sì, mi ricordo. C'era anche lì, la fatalità. È vero, perché... Però lì non aveva ancora strumentazione elettronica. Aveva Lemond. Lemond, sì. Che era, ormai, insomma, Lemond c'è dagli anni trenta, insomma. Però ecco, ci sono i nuovi. Che faceva la sua bella figura, comunque. Sì, sì, bravissimo. È stato un altro dei miei idoli, in effetti. Ecco, insomma. Se vuoi leggiamo due righe... Su, 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 vai, vai, su, che cosa volevi leggere? Metto giù la chitarra tranquillamente. Metto giù la chitarina. Oh, vi ricordo che venivano anche, c'erano anche i gruppi italiani, perché quando hanno presentato, hanno presentato Piccolacchetti, i Poo, erano al cinema corso, a Padova, tanto per dire... Il mitico cinema corso. Voi che sapete in che anni, quanto vecchi siete. No, io personalmente sì, ma... Però era un bel andare, si divertiva veramente tanti, anzi, credo che fosse il 68, perché quando parlava dei 16 anni pavolosi, Piccolacchetti, credo che ne avevo 16 anch'io. Credo che forse del... O 68 o 66. Eh? 66 è uscito il disco. Addirittura? Se non ricordo male. Allora avevo 14 anni. E quindi, ecco, dovrebbe essere del 66 o comunque, insomma... Per gli anni da, sì. Perché la sentivo. Ma anche perché la musica non si bruciava così in fretta, come succede adesso. Ah beh, adesso sì. Adesso è una... Lì i dischi si continuavano a vendere anche... Ma stavano in classifica per mesi? Sì. Anche per anni, forse. E ne vendevano tanti, cosa che adesso... Adesso... La crisi è... Cosa ci leggi? Allora, volevo leggervi un passo di... Pronto? 68. 1968, vedi che avevo ragione, che avevo 16 anni. Ecco, 68. Sì, sì, no, no. Grazie, grazie, regia, sempre per l'informazione, sempre per preciso. Vai. Allora, racconta di questo Bruno Maier, che è un altro dei personaggi che la gente a venticinquesimo incontra. Lui è un militare e fa un turno di guardia al muro di Berlino. Ah. E dice, questo Bruno mi raccontava a notte fonda, con gli occhi lucidi per gli alcolici e le lacrime, è un alito da foca. E con voce roca, stupore infantile, mi disse una volta, ascolta cosa mi è capitato ieri sera. Faceva freddo e c'era un po' di nebbia e ad un tratto, mentre fissavo la fetta di muro di mia competenza, mi è sembrato di notare delle ombre in movimento. Subito dopo tutto è tornato immobile, ma ad ogni passaggio della lama di luce del faro di sorveglianza, i miei occhi mi confermavano una strana e rara anomalia. Un uomo e una donna, abbracciati, si stavano baciando, appoggiati a quei monoliti grigi che dividevano il mondo. Anche David Bowie aveva assistito a quel miracolo. E infatti, una sera, una di quelle sere tutte uguali nel grigiore di una monotona vita alla deriva, David Bowie aveva assistito ad un vero miracolo. Il mondo poteva precipitare da un momento all'altro e quella caduta, molto probabilmente, sarebbe iniziata proprio a Berlino. Nonostante ciò, un uomo e una donna si stavano baciando appoggiati a quel muro, ai bordi di un orrido crepaccio termonucleare. Potevano essere eroi solo per un giorno, ma accidenti, quella era una visione di speranza e certo che lo era. Bello. Allora, intanto, grazie a Maurizio, a Elvi, a Tiziana, a Claudio, a Minuta, a Marilena. Ci arriva anche il bacio da Minuta, da Federico, dalla Gina, Mariella, Marco. E questi sono quelli che stanno seguendoci e che io ringrazio al volo. Se mi dimentico qualcuno, dovete scusare, perché come al solito, sapete che riesco a guardare al volo. Allora, questo per quello che riguarda da una parte, poi guardo se sono arrivati i messaggi. Io so che l'amico Jan è in ascolto, l'amico Jan ci ascolta da Como. E infatti, e infatti, lo sapevo io che arrivava, il suono della chitarra, gli accordi, la voce modulata su queste note splendide che arrivano al cielo, all'anima, al cuore, emozioni, sensazioni, vita grande. Grazie Jan, l'amico del giaguaro. Questo era per il tuo pezzo. E quindi, nei quelli, militava anche Teo Teocoli. Sì. Tanto per dire. È vero. Ma Jan se ne intende, e come se ne intende. Sì, sì, sì. Quindi, ecco, quindi è un piacere. Allora, sempre visto che l'amico Jan ha gradito il tuo pezzo, gliene fanno un altro? Gliene fanno un altro. Scusami, è arrivato su Facebook un grande Giorgio da parte di Fiavane. Ah, benissimo, grazie. Ah, Antonio Fiavane. Grazie all'amico Antonio. Che saluto. Molto, molto, molto piacevole. Ecco, ho fatto sì. Vedi, Jan mi ha detto sì. È uscita nel 68, piccola Chetti, ma l'ha scritta nel 67. Ed era questo il particolare. E avevamo ragione entrambi. Io perché l'ho sentita nel 68, tu ne parlavi della scrittura. Si fa così, si fa così. Allora, metti pure a cuccia quello. Riprendiamo la chitarra perché è il bello di questa trasmissione che facciamo tutto da vivo. Io adesso vorrei fare una cosa che è in tema col periodo. Bene. Vorrei fare una versione un po' blues di Jingle Bells. Di Jingle Bells, blues. Insomma, siamo anche vicini al Natale. Se non la facciamo adesso, anzi, ce la teniamo anche buona che poi... Magari la ripropongo più avanti. Vai. Jingle Bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle Bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh è molto bellissima anche questa ci siamo, ci siamo allora, Giorgio, beh tu scrivi queste cose qua poi vedo rubber band qua vedo un bit of luck che fra un po', eccoli qua vedi, vedi, vedi questo è il mio gruppo e se dopo vuoi inquadrarmi a bit of luck, cioè un po' di fortuna sì, questa è, sì esatto ci vuole un po' di fortuna senza quella ce la cerchiamo e ce la meritiamo e il disco interno la copertina è diversa ma, vabbè comunque sì, sarebbe una coppia chiamiamo di lavoro esattamente, comunque allora, parlami un po' adesso perché anche tu non ci crederai ma il tempo è assassino io sono quasi le 40 abbiamo una dozzina di minuti se non vado errato me lo confermerà il regista quindi abbiamo tempo di fare due chiacchiere su un po' la tua carriera un po' il gruppo e magari chiudiamo con una robetta rapida che farà da sigla allora questo speriamo andiamo citerei anche a leggere un altro passaggio del libro perché è molto divertente va bene niente, rubber band è un gruppo che io ho messo come si dice messo in piedi ancora nel secolo scorso di fatto fa impressione dirlo però è così a me sono passati solo vent'anni non è poco e dal 2001 questa band questo gruppo è diventato ha preso la forma che ha adesso cioè di gruppo acustico di gruppo con la particolarità di non avere la batteria e abbiamo cercato di come si può dire di portare la musica che ci piaceva fare rock blues dei nostri anni precedenti in qualche modo abbiamo cercato di renderla acustica usando quindi la stessa intensità ma in forma acustica quindi non sono ha molta energia infatti se ascolti il disco senti c'è molta energia proprio è una cosa molto rock non considerare la batteria sì è stata una scelta molto dico sempre come battuta perché noi odiamo i batteristi cosa che invece non è assolutamente vera è che è capitato così una delle ispirazioni che ho avuto per creare questo gruppo è stata proprio per esempio quel bellissimo Unplugged di Eric Clapton che è una cosa una delle cose più belle mai fatte secondo me dove la batteria non c'è una vera batteria ci sono molte percussioni queste cose qui e questi suoni acustici ma allora si può fare si può avere come si può dire un'impronta rock o comunque molto così anche suonando degli strumenti non amplificati senza qui chitarroni che per carità sono bellissimi però e così ho cominciato questa avventura ho trovato Renato Banino che è chitarrista lui fa la parte diciamo è virtuoso del gruppo e abbiamo cominciato nel 2001 e man mano siamo arrivati fino ad adesso insomma adesso siamo fermi perché come sei bene c'è qualcosa che ci impedisce di andare in giro a suonare non ci fanno suonare non ci fanno suonare però il gruppo c'è è ben vivace insomma siamo alle battute finali anche con il disco quindi il prossimo quello che si seguirà questo quando sarà ora avremo la band a completo a completo cominciano a fare i concerti anche a mezzogiorno adesso ormai adesso vedremo come prosegue la cosa speriamo speriamo bene ecco una cosa invece che volevo dire fai sotto un certo profilo se eviti la batteria visto che è veramente ingombrante fai anche il favore dei locali un po' piccoli dove se no la batteria ruba il posto un tavolino da sola spesso è anche di più è anche di più e no infatti spesso noi abbiamo suonato in situazioni estreme abbiamo suonato a Londra davanti a 15.000 persone abbiamo suonato anche in posti dove dovevano tenere le chitarre appoggiate al naso perché se no non ci si muoveva ecco e quindi ecco la scelta cosa vuoi allora c'è la scelta anche ritmica di non avere la batteria è un po' più impegnativa perché io e il bassista Massimo Durante che conosci anche tu siamo costretti a darsi un ritmo sì siamo noi che a supplire siamo noi che esatto noi facciamo le veci della batteria insomma ecco e funziona perché se sono più di 20 anni che siamo in giro insomma vuol dire che va avanti vuol dire che sì dalla regia mi segnalavano che anche l'alligatore di Carlotto fra l'altro è diventato anche questo un prodotto televisivo e vassurai due quindi insomma qua la gente 25esimo si deve appare qualcuno perché ormai funziona funziona così le spy story sono molto interessanti e addirittura una cosa che non ha fatto nessuno è che c'è anche gente che suona quindi attenzione perché si può diventare una cosa molto interessante e allora a che punto leggiamo un pezzettino sì volevo leggere un permesso visto che ci siamo allora io intanto vado a verificare per capire per far capire anche cosa succedeva vabbè abbiamo parlato del di Berlino del muro di quel muro sì sì eccolo qua scusate un secondo solo allora questo è una parte del libro Roberto l'agente 25esimo in realtà racconta le sue esperienze di band con i coetanei quindi si aveva intorno ai 16 anni più o meno i tempi tra le medie e le superiori perfetto e allora cosa succede che una di durante una delle nostre scorribande notturne scoprimmo un localino molto elegante e intimo adatto a coppiette più o meno clandestine dove alcuni musicisti eseguivano un'impalpabile soffice musichetta quasi da piano bar durante una canonica pausa Mauro il batterista e cantante millantò le nostre più recenti esibizioni e un contratto discografico con la casa ricordi causando notevole stupore e ammirazione veniamo da Milano siamo qui in vacanza gli disse vi abbiamo sentiti suonare bravi dice lui al gruppo che stava suonando bravi ma noi facciamo un altro genere un po' più ritmato fra poco uscirà il nostro disco e ci hanno anche chiamati ad aprire il concerto dei e non si sa ricevemo lo sguardo meravigliato di grande apprezzamento dell'ingenuo pianista Montanaro leader del gruppo e sorrisi e pacche sulle spalle poi fu il turno della richiesta se volete vi facciamo sentire qualcosa giusto un assaggio l'opera di persuasione andrò più in là del dovuto tanto che anche gli altri componenti del gruppo locale vogliono restringere le nostre mani complimentandosi e congratulandosi per l'insperata fortuna di avere dei così grandi musicisti da ascoltare nel loro locale impossibile dire di no alla strepitosa esuberanza del nostro batterista sorridenti impazienti ci consegnarono i loro strumenti e ci accomodano io impugnai con sicurezza il basso Mauro si sedette alla batteria e Bubi arraffò la chitarra per prima cosa portammo i potenziometri degli amplificatori dal numero 3 al 10 in massimo poi suonammo il primo brano l'inno americano della versione di Jimi Hendrix però Bubi era particolarmente ispirato anche perché di recente aveva assistito al film che documentava il festival di Woodstock successivamente mi avrebbe confessato che in tasca aveva anche l'occorrente per incendiare la chitarra ma quella notte non riuscì nell'impresa anche perché non era la sua non era la sua fra l'altro vabbè allora sai che ti dico credo che siamo al punto che se fai una cosettina servirà come sigla che dici? si dai va bene giusto? volentieri come la tradizione la sigla la fa l'arbito musicista? eh si per forza giustamente giustamente va bene dai allora io direi facciamo allora cominciamo ecco io allora a questo punto già comincio a ringraziare tutti quanti perché come al solito ho la pazienza di seguire Casa Caffè io spero che sia stato piacevole perché non abbiamo parlato di disgrazie ma di gran bella musica e poi di un agente segreto l'agente venticinquesimo che scusate se è poco più avanti sapremo qualcosa di più di lui perché qua cominciano sempre con poco poi vanno chissà dove e grazie ovviamente a Roberto De Santa per quello che è stata la sua parte a livello telefonico ma grazie soprattutto a Giorgio Feirsoni amico da una vita che è un piacere che non solo ci ha messo la parte dell'appendice la parte musicale eccetera eccetera nel libro ma anche perché ci fa sentire qualcosa di buono l'appuntamento sappiatelo è comunque per venerdì prossimo che vogliate o meno saremo qui alla faccia di DPCM bellissimo con cosa chiudiamo chiudiamo con una canzone da aria aperta molto bene Take Me Home Country Road mamma mia bellissima like a breeze country road take me home take me home country road take me home a canzone a canzone a canzone Grazie a tutti.